musica e quindi si riparto per andare a vedere un'altra milletta allora prima che non vi ho fatto vedere la piscina era a forma di cuore e poi decoro dentro un qualcosa di proprio arabo, bello tipo queste cose che vedete qui, bello decorato, questo qua molto più moderno andiamo a vedere adesso un'altra un'altra sì, sì, tutte sì, 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 sì ecce Questa è la piscina bella, l'enorme, molto bella questa piscina. La piscina è la piscina, la piscina, la piscina, la piscina, la piscina, la piscina. Qu'amore, ragazzi, c'è un po' di fiume incredibile. E c'è l'esuita, c'è il casino? C'è il palazzo e il casino. Allora, la villa sta proprio qui. Prendiamo proprio questa. Allora, questa è la stanza. Diciamo che questa qua è più piccolina. Questa è la stanza direttamente direttamente in piscina. Questa è meglio. Ho la premiere, la premiere è buona. Allora, perché qua è un po' pericolosa per Elie, però è bella. Allora, ragazzi, queste ville sono per tante persone. Quindi, se venite qua, potete fare tante persone. Ok, a più tardi. Anche se devo perfumare. Divertto in piscina. Abbiamo scelto la seconda. La prima non l'avete vista. Abbiamo scelto la seconda, quindi la faccio per i minimi particolari. Allora, io ho fatto fare anche un bel tour dell'Otem. Qua è il palace più casinù. Allora, ora vi faccio la prima volta parlare ai due vittori ai tagli. Abbiamo mariorino ai piящorsi di giochino. Allora, io ciò chepe provo a lavorare. Eccolo. Cosa cheque ci puoi cuura vindare? Sì, la storia. Eccolo qui è la scena di salute. C'è l'interno del palazzo, bellissimo. Per prenotare la virletta che avete visto, guardate che belle decorazioni, incredibile, veramente molto molto bella. Guardate un'altra, poi faccio le ricezioni minimi particolari. Guardate un'altra stanza che stiamo vedendo. Vedete sempre qualcosa di migliore. Però non ha sole, adesso ne vedremo un'altra, una sweet che ha il sole. Certo, adesso facciamo anche un video di ricetta da sballo. Stanco, eh? Ma ti sei fatto male comunque? Faccio di tu. Faccio di tu. E dopo vediamo. Noi, allora. Ok. Se niente. Allora. Bella, eh ragazzi? Bella questa piscina. Allora ragazzi. E dopo ci facciamo pure un bel bagnetto. Sto vedendo la sicurezza per Elio. Diciamo che vorrebbe andare, speriamo. Dopo controlliamo. Il problema di queste piscine è che si scivola sui scalini. Possiamo fare anche un controllino adesso. Vediamo di non scivolare con la telecamera. Per vedere un po'. Bella questa piscina. Molto più bella. Vedete, queste sono lo stesso order però questo qua. Allora il piede praticamente non scivola. Ah no, tranquillo, tranquillo proprio qua. Allora, eh, questa è la parte di lusso, no? Allora vi spiego. Questa qua è la parte di lusso. Infatti le piscine sono solo per le persone che stanno qui in questa parte di hotel. L'altro là è molto più alla mano però è bello lo stesso. Però dopo in queste piscine testate dall'altro lato non potete venire. Perciò è di lusso. Poi avete visto le villette. Comunque abbiamo preso la suite. Non la villetta. Stava. A più tardi sotto le garage, ma le viaggi. Adesso mangiamo qualcosina. Allora ragazzi e quindi vi presento il resto della piscina. Vedete quanto è enorme. Facciamo anche un bel bagnetto qua. Poi si passa sotto i ponti qua. Vedete questa piccola oasi in mezzo alla piscina. Con i bar. Bellissimo. veramente molto 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 bello. Poi i giardini comunque ve li ho fatti vedere in carrozzina. Adesso finiamo così con l'hotel. Avete più o meno una visuale dell'hotel di quello che noi abbiamo visto. Allora guardate qua. Guardate quanti fiori. Ma si sente un odore di rose che non vi potete proprio immaginare. Queste rose che ci stanno sono praticamente profumatissime. Guardate che colori. Guardate che meraviglia. veramente molto bello. E ve l'ho detto. Questa qua è la parte chic. Allora noi la suite qui l'abbiamo pagata praticamente 400. Allora dovevamo prendere le villette. Però ci sono dei gradini pericolosi per Elio. E abbiamo perché è caduto. Non l'ho ripreso per è caduto. E ma è incredibile. Veramente una... Guardate che cura. Veramente molto molto chic. Allora quindi faremo... Abbiamo preso quindi la suite che si trova proprio qua sopra. E abbiamo pagato 400. Però questa qua è suite che ve la faccio vedere. Nei minimi particolari veramente molto molto chic. che è la differenza dell'altra che è molto più popolare però bella ugualmente però questa qua ti affaccia poi su questa bellissima piscina e stavo dicendo le persone che vengono qui se vanno nell'altra parte di Oter che vi ho fatto vedere non hanno il diritto di venire a fare bagno in questa piscina e perciò è un luogo chic poi tutte persone di un certo livello ciao aspetta non ti muovere non ti muovere come stava a San Ropè la fotografia di San Ropè che poi ho messo su Facebook è troppo bella proprio perché si vede pure la gocciolina che sta scendendo proprio particolare ti scioglie come un gelato all'ecotore ragazzi fa un cazzo di caldo qua non vi potete proprio immaginare e non consumare tutto il ghiaccio ora ti mandi allora ragazzi quindi abbiamo cambiato stanza da qua è una suite però nell'altra parte di hotel un po' più aspettate l'edito blu poi la particolarità di queste istante che hanno questa stanza lì si vada solo per i bagagli così non rompono il cazzo per la stanza i bagagli dove si mette la roba eccetera e poi il cesso guardate che è un bel cesso nella vasca guardate questi petali di rose questo che cos'è qua che è sta roba candela savon black soup savon black soup c'è facile ah questo è il sapone per purlo con mascio ma ho picchio così sparagliamma bella confezione bello questa è una lascia wow e questo è cesso però ci sta ingredendo il famosissimo peradino qua per elio mannaccia non me ne sono proprio accorto cazzo e niente ah erano belli quegli altri erano di colore giallo ma lo prendevo questo è di colore rosa cazzo wow poi qua ci sta un'altra porta che possono fare comunicante due stanze quindi magari siete più persone bella quell'altra però in generale non mi piaceva di più però questa è più di classe aia aia ragazzi vi giuro allora guarda allora mi sono messo questa tuta per sudare perché soddisfano le valigie quindi approfitto nel movimento il calore quindi fai una bella sauna per immaginate un po' immaginate un po' che è venuto a bussare adesso un po' il cameriere per dire ma mi sembra qualcosa mi lascio immaginare la faccia che ha fatto ciao comunque ci stiamo diventando te Grazie.